Buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qui nel disordine classico, solito e usuale della mia libreria. Allora, cari signori, ho recuperato, cercando un pochino qua negli scaffali, ho recuperato questa vecchia dispensa fotografica, immagini di dimensione cielo, delle edizioni bizzarri. Eccolo qui, questo sarebbe il volume B1 dedicato ai caccia e agli assaltatori, a cura di Emilio Brozu e Gerardo Consolo, un libretto agile, ben fatto, ben curato, in cui una numerosa e nutrita serie di fotografie ci parla dei nostri aerei da caccia, cioè i Macchi C200, ci sono le foto dei Macchi C200, ci sono, sì, eccole qua, foto in azione dei Macchi C200, foto in azione, scusate, foto in azione e in fabbrica del CR42, eccolo, eccolo qua, e ecco qui, ancora foto dei nostri CR42 in azione, in volo e a terra, eccoli qua. Allora, dicevo, c'è una piccola curiosità in questo, in, come dire, in questo volumetto, in questa dispensa, una curiosità riguardante la versione catapultabile del Reggiane RE2000. Nel maggio 1942 iniziarono le prove di lancio con la catapulta del Reggiane 2000, matricola militare 82-81, a bordo della Reggia Nave Miraglia, ok? Questa è una delle sue foto più famose. Guardate qua, praticamente dalla Reggia Nave Miraglia, questo Reggiane 2000 catapultabile sta per essere lanciato per un volo di prova. Il pilota, chiuso nel suo abitacolo con la capottina aperta, ancora aperta, col tettuccio ancora aperto, è il tenente Giulio Reiner, uno dei nostri migliori piloti da caccia. Un grande asso, un grande pilota, anche un bravo tecnico, c'è da dire, perché finita la guerra, finita la guerra, Reiner prese un Reggiane 2000 e lo trasformò in biposto, da solo, giusto si può dire quasi per passare il tempo. Ecco, comunque sia, queste foto, questa serie di foto è interessante perché ci mostra il lancio, ci mostra le prove di lancio con la catapulta dei Reggiane 2000 catapultabili destinati all'impiego sulle nostre cosiddette unità maggiori, ovvero sia le unità, le navi della classe Littorio. I Reggiane 2000 venivano catapultati, i Reggiane 2000 venivano catapultati e una volta effettuata la missione dovevano rientrare a terra, perché ovviamente non potevano ammarare. Ecco qua, questo, ecco, questo è il momento del lancio, ok? Il tenente Reiner si lancia con il, il tenente Giulio Reiner si viene lanciato con la catapulta dal ponte della Reggiane 2000. A proposito, nota bene una cosa, su internet questa serie di foto viene descritta come il lancio di un Reggiane 2000 dalle catapulte della corazzata Vittorio Veneto. Errore. Era una trovata propagandistica. Le prove dei Reggiane 2000 catapultabili, ripeto, questo è il numero di matricola militare 8281, eccolo, ripeto, questo è l'esemplare MM8281. Le prove vennero tutte effettuate sulla Reggiane nave Miraglia, una vetusta porta idrovolanti che era stata adattata a banco prova per gli aerei catapultabili, per i Reggiane 2000 catapultabili. C'è anche una gustosa storiella, allora, l'idea era dell'ingegnere Stefanutti, non so se ve lo ricordate, l'ideatore del SAI Ambrosini SS4, il famoso aereo da caccia canard che sembrava un'astronave e che fece un unico volo nel 1939, fece due voli, scusate, nel 1939. Stefanutti, che era un progettista molto brillante e molto bravo, fu l'uomo che promosse l'uso dei Reggiane 2000 come aerei imbarcati, perché era una piattaforma, era una piattaforma alare, aveva una piattaforma alare, di ottime caratteristiche ed era sicuramente il nostro caccia con l'autonomia maggiore, che come aereo imbarcato è un requisito assolutamente indispensabile. Questa cosa curiosa, questa foto qua che vedete, questa sarebbe, ecco, notate bene, questo è il Reggiane 2000 di Reiner, Reiner è già nell'abitacolo e credo si veda, sta già facendo girare l'elica, sta già scaldando i motori. Questa sarebbe la slitta della catapulta. Allora, notate bene, questi sono i dispositivi, si dovrebbe notare nonostante i miei limitati mezzi tecnici, si notano i dispositivi che agganciano l'aereo alla slitta della catapulta. Allora, il tenente Giulio Reiner, che era il pilota di questo aereo, quando vide il progetto dell'aggancio e il sistema d'aggancio dell'aereo alla slitta della catapulta, si accorse di una cosa, cioè si accorse che gli attacchi, non questi che vedete qui, che sono gli attacchi definitivi, gli attacchi, il primo tipo di aggancio alla, insomma, il primo tipo, il sistema di agganciamento alla catapulta di primo tipo, era fatto male, era fatto in un modo che al momento del lancio gli agganci avrebbero tranciato di netto i piani di coda. Reiner, che era un tecnico molto bravo, che era un ingegnere valentissimo, ripeto, un uomo che da solo modificò in biposto un Reggiane 2000 nel dopoguerra, insomma, manico come pilota, ma anche altrettanto manico come, come dire, come tecnico e come, insomma, come esperto di questo aereo, dicevo, il talento Reiner si accorse che la slitta della catapulta al momento del lancio gli avrebbe tranciato i piani di coda. Mi sono, tempo fa, avevo letto i resoconti della storia, insomma, i rapporti a proposito di questi lanci fatti dalla Reggianave Miraglia, dalla Porta Idrovolanti Miraglia, dei Reggiane 2000 catapultabili. A quanto pare, Reiner ebbe una litigata ferocissima con i progettisti della catapulta, che non si erano resi conto del fatto che al momento del lancio gli agganci avrebbero tranciato i piani di coda. Reiner litigò ferocemente, insomma, si incazzò come un animale, e vorrei anche vedere, la pelle era sua, cioè già che il lancio di un aereo con la catapulta non è che sia propriamente un'esperienza per deboli di cuore, siamo sinceri, anzi, anzi, è un'esperienza pesante, perché sembra veramente che lo sparo della catapulta ti spezzi tutte le ossa che hai in corpo. Non è propriamente molto salutare, ma vabbè, succede. In pratica, il talent Reiner costrinse, con le cattive, con le molto cattive, costrinse i progettisti a modificare gli attacchi, e questa è la soluzione definitiva. I reggiane 2000 catapultabili furono costruiti in piccolissima serie, praticamente furono costruiti nove esemplari, che erano stati marchiati con le matricole militari, che andavano da 8281 a 8290. nove esemplari in totale, che fecero poca guerra, perché la nostra flotta oramai era praticamente confinata nei porti, perché la superiorità aerea e la superiorità navale alleata negli ultimi mesi di guerra era assolutamente indiscutibile. La nostra ormai poteva essere utilizzata soltanto come fleeting behind, come flotta, come, diciamo, deterrente, però, da tenere al sicuro nei porti, perché unità così preziosi non potevano essere sicuramente messe a rischio. Che vi devo dire, signori? È così, purtroppo. E dicevo, Reiner, ecco, fu l'uomo che li collaudò, fu l'uomo anche che migliorò i sistemi di aggancio e sparo. Insomma, questo, eccolo qui un altro, ecco, ancora la foto del Reggiano 2000 catapultabile sulla slitta della catapulta sulla Reggiana Vemiraglia, e questo qua è il momento del lancio proprio con la catapulta, dello sparo della catapulta. Insomma, vi lascio immaginare, ogni lancio doveva essere un'esperienza che ti accorciava la vita di almeno dieci anni, se non quindici, eh, diciamoci la verità. Quindi una piccola curiosità, una piccola, piccolissima, una piccola, piccolissima storia a proposito di nove aeroplani che equipaggiavano le nostre unità maggiore. I Re 2000, i Reggiane 2000 catapultabili. Ripeto, questo è l'esemplare, con la matricola militare 8281. Ripeto, sulla Reggia, nave, miraglia, non sulla Vittorio Veneto. Quando furono pubblicate, queste furono pubblicate come, come foto, ovviamente, foto propagandistiche, di un Reggiane 2000 lanciato dalla Vittorio Veneto. Errore. Era la vecchissima nave porta idrovolanti, miraglia, la Reggia nave miraglia, sul cui ponte sono state scattate le foto che vi ho fatto vedere. Insomma, Reggiane 2000, sì, 2000 imbarcato. Nove esemplari costruiti, una carriera bellica quasi inesistente, un aereo che probabilmente, ripeto, come sempre, avrebbe meritato miglior fortuna. Tutto qua. Quindi, come sempre, fatemi sapere, commentate, datemi dritte e notizie, e arrivederci di nuovo al mio prossimo video. Ciao!